Buon pomeriggio, ringrazio e saluto tutti per essere qui in questa conferenza stampa per noi molto importante. Chiaramente il ringraziamento più importante va al Ministro Adolfo Urso che è voluto essere presente con noi questa mattina per un'occasione straordinaria. Il nostro territorio fortemente colpito dal sisma del 2016, in particolare il nostro entroterra del Catere che ha una difficoltà oggettiva e che già soffriva tantissimo anche prima del sisma del 2016. Oggi grazie a questo progetto può prendere un nuovo spunto di rigenerazione economica e sociale e soprattutto è un segnale credo importante a tutte le istituzioni, agli enti locali ma anche alle comunità che su questi territori vivono. E' un segnale dell'attenzione del governo e di tutte le istituzioni nei confronti non solo della ricostruzione post-sisma ma anche della volontà di credere nelle nostre aree interne e nella volontà di credere in questi territori. Oggi siamo qua insieme a tante altre opportunità, ricordo anche la visita appena la scorsa del Ministro Musumeci per l'alluvione che ha colpito il nord delle Marche nel settembre del 2022. Siamo qua per raccontare i frutti di un bando che ha visto due nostre imprese importantissime, con dei progetti molto importanti, scusate ripetere le parole, però è un segno veramente inequivocabile dell'attenzione e della forza delle nostre imprese sul territorio, a giudicarsi per il tramite dei progetti questo bando. Sono due aziende a cui noi siamo grati per quello che fanno quotidianamente nei nostri territori, per gli investimenti che continuano a fare, segno anche di una volontà di credere nelle Marche e per il tramite della nostra regione anche di l'innovazione, di internazionalizzazione, di sostenere una strategia ben precisa e che noi non possiamo che vedere di buon occhio e che non possiamo che sostenere in tutte le nostre azioni che riguardano il governo del territorio, perché noi crediamo che la nostra regione possa tornare ad essere sempre più protagonista, superare questa fase difficile che ci vede come regione in transizione, ma riteniamo di avere tutte le carte regole, i player e gli strumenti per tornare ad essere una regione trainante del PIL nazionale e soprattutto anche un territorio che possa riuscire a trattenere le migliori energie possibili su questo nostro territorio, penso ai giovani, penso anche a tutte quelle imprese piccole e medie che pure intorno a questi grandi gruppi possono trovare uno sviluppo. Ecco, io non vado oltre, ringrazio anche il commissario e il sottosegretario Lucio Albano, tutte le altre autorità presenti e passo la parola al commissario Guido Castelli. Grazie Presidente, io voglio salutare i presenti, in particolare i rappresentanti delle due società di cui diremo che sono state protagoniste di un risultato significativo per loro, per le Marche e per il cratere. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei primi dati del cosiddetto programma Next Appennino, un programma che dà solidità al principio secondo cui il commissario straordinario e le regioni nel mentre ricostruiscono le case devono curarsi anche dello sviluppo sociale ed economico dei territori, appena il rischio che quelle case, una volta ricostruite, siano prive del flusso minimo vitale. Da questo punto di vista abbiamo messo in campo risorse importanti, complessivamente 615 milioni per le imprese, tra cratere 2009 e cratere 2016, che per l'occasione hanno cooperato in una simbiosi apprezzabile che nasce dal fatto che diceva il Presidente, che in realtà il cratere rappresenta il centro dell'Italia, rappresenta una zona, lo diceva il Presidente Acquaroli, già affaticata, ma che rappresenta una grande questione nazionale proprio perché recuperando competitività al centro l'intera penisola può trarne vantaggio. Noi abbiamo in pochi mesi istruito due, tra le altre cose, progetti per circa nel numero complessivo di 627, cioè solo nelle marche ci sono state approvazioni per finanziamenti relativi a 627 progetti, abbiamo riconosciuto agevolazioni per più di 200 milioni e noi immaginiamo ad un investimento che complessivamente produrrà ricadute per 430 milioni. Nelle sole marche. Parliamo di una somma che assorbe, se paragonata Presidente, una consistente parte del Fesre, che è un'altra questione, ma che si aggiunge a questo lavoro che noi abbiamo fatto. Noi presentiamo oggi i grandi investimenti che hanno intercettato, lo dico al Ministro Urso, le politiche industriali più significative che insieme al Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini da tempo stiamo sviluppando in una logica di cooperazione industriale che ha visto i risultati di cui dirà il Dottor Merloni e di cui dirà il Dottor Giulianelli. Quello che mi premeva ricordare è che noi abbiamo un ulteriore taglio di investimenti di cui ho già parlato con il Ministro Urso, sono i contratti di sviluppo cosiddetti medi, quelli che vanno da un minimo di un milione e mezzo a un massimo di 20 milioni. I presenti si sono collocati su una cifra superiore, ma i contratti di sviluppo ce li siamo un po' inventati noi in questa capita di coordinamento ed è un frutto significativo quello che abbiamo raggiunto, nel senso che potremmo davvero consentire sviluppo importante anche se ci fossero nell'ambito della ripodulazione del fondo complementare del PNRR, questa è una battaglia che stiamo facendo con i governatori, il Presidente Acquaroli mi ha molto utile nel sollecitare il nostro Ministro Fitto, perché è spesa già istruita, liquidabile, quella che potremmo avere finanziando la parte sostenuta dalla provvidenza iniziale, ma anche magari sviluppando. Ecco, noi a questo punto lascio la parola al Sottosegretario Almef, Lucia Albano, che ci aiuterà in questo compito di collazione di risorse che ha questa caratteristica, in un'Italia in cui la capacità di spesa non è sempre, come dire, così evidente e affermata, noi siamo in grado non solo di rispettare le milestone di progetti approvati, ma anche di recuperare competitività puntando su quell'impresa, oltre che grande, media e piccola, che è la vera protagonista di questa strategia di sviluppo che condividiamo con gli amici dell'Aquila. Quindi grazie e la parola al Sottosegretario Albano. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito e questa possibilità. Saluto il Ministro Urso, che viene nel nostro territorio e l'abbiamo incontrato già diverse volte, è proprio molto vicino. e saluto e ringrazio il Presidente e il Commissario Castelli. È un intervento importante, è una bellissima giornata questa, nella quale si mette in luce la capacità della nostra regione di produrre ricchezza e la grande potenzialità che essa ha, ma anche la grande difficoltà che ha incontrato e che continua a incontrare, a seguito di tutto ciò che in questa regione, che è considerata e viene vista come regione in transizione, ha dovuto vivere negli ultimi, ha dovuto attraversare negli ultimi anni, negli ultimi decenni. E mi complimento per questa importante iniziativa delle due grandi imprese che hanno sede nel cratere, che hanno sede nel centro e nel cuore della nostra Italia. Sono certa che questa sarà una possibilità non solo per la nostra regione, ma per tutto il centro Italia e sono anche certa di come sia importante dare un'immagine di, mi pare che questo sia uno degli obiettivi di reshoring, cioè di poter ritornare nelle marche, di poter tornare, far tornare aziende che possano investire nel nostro territorio, tornare ad investire nel nostro territorio, tornare a lavorare nel nostro territorio. Volevo sottolineare cosa il MEF sta facendo anche in questo momento per le piccole e medie imprese, mi premeva dirlo, ci sono interventi a vario titolo, a vario genere, che vengono effettuati in legge di bilancio, piuttosto che con la delega fiscale che si sta approvando in questi giorni. Ma per le piccole e medie imprese volevo sottolineare l'importanza di un canale come quello di Sace che fornisce garanzie attraverso il fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese per poter effettuare e sostenere il rilancio del territorio. Io non smetto di ricordarlo ad ogni opportunità, ad ogni occasione, perché è un tipo di sostegno che è importante, è un veicolo e una leva economico-finanziata particolarmente importante. Mi complimento quindi per il lavoro che è stato svolto e faccio i migliori auguri per questa importante iniziativa che sarà certamente un enorme volano per la nostra economia. Grazie. Bene, grazie, grazie amorevole. E ora la parola alle imprese che sono protagoniste di questa conferenza stampa. Passo appunto la parola a Dottor Paolo Merloni, presidente e deputivo di Ariston Group. Grazie, grazie, grazie molte e buongiorno a tutti innanzitutto. Grazie alla Regione Marche e al programma Next Appennino per questo invito. Io sono molto felice di essere qua oggi e ripeto quello che è stato già detto, è un'occasione credo straordinaria alla presenza del Ministro che ringrazio, Ministro Urso, del Presidente della Regione Marche che anche ringrazio e del Commissario Emilio Castelli che anche ringrazio per parlare dello sviluppo di un territorio che è molto caro al gruppo e a me personalmente, le Marche e poi la parte appenninica marchiciana. Vorrei in questi dieci minuti insieme all'ingegner Crovella che poi dirà qualcosa anche dopo di me, dare una vista di Ariston su Ariston, sulle sfide che abbiamo e anche sulla nostra strategia di investimento nel territorio. Ok, facciamo con la freccia che è meglio. Innanzitutto c'è Ariston. Ariston è stata fondata nelle Marche da mio nonna Aristide nel 1930 che tornò dal Bacina, nel cratere della sua città natale per avviare una piccola impresa di produzione di bilanci professionali spinto dal desiderio di contribuire attivamente allo sviluppo dell'appennino marchigiano, la terra delle sue origini. Era convinto, e questa è una sua frase che dice molto, che parte dalla nostra filosofia, era convinto che non c'è valore nel successo economico se non è anche accompagnato dall'impegno per il progresso sociale, anche da un punto di vista dell'imprenditore e dell'azienda. La sua filosofia oggi è la nostra stella polare, è alla base della nostra visione di comfort sostenibile per tutti. La nostra storia inizia più di 90 anni fa con la produzione di bascole, bilance, poi negli anni 60, bombole per gas liquido, scaldacqua, elettrodomestici, alcuni di voi lo conoscono già. Negli anni 70 mio papà Francesco ha dato vita all'espansione internazionale di Ariston e dagli anni 80 siamo presenti nel settore del riscaldamento e dagli anni 90 abbiamo aperto le prime filiali in Europa orientale e in Asia. La nostra crescita ha subito un'accelerazione importante negli anni 2000 e poi, poi lo vedrete anche da due numeri, abbiamo, e poi ha un'accelerazione ulteriore negli ultimi anni. Abbiamo aperto tanti nuovi mercati e siti industriali e abbiamo fatto moltissime operazioni di acquisizione e di crescita, 18 solo dal 2014. Ultimo ma non ultimo, la quotazione del novembre 2021 ci ha permesso di fare quella che è una delle più grandi acquisizioni mai fatte di un'azienda tedesca manufatturiera, forse la più grande mai fatta di un'azienda tedesca manufatturiera da parte di un'azienda italiana per un valore oltre a un miliardo di euro, a un miliardo e cento di euro, che è il marchio Wolf tedesco e il marchio Brin colandese. E diciamo, la sfida di Ariston è la sfida energetica, la sfida di tutti noi. Il processo di transizione energetica riserva delle prospettive importanti di crescita per il nostro settore e quindi per Ariston. Sappiate che in Europa gli edifici sono responsabili di circa un terzo del consumo di energia, dell'energia consumata in Europa e oltre il 60% di questo consumo degli edifici è dovuto al riscaldamento e climatizzazione e il 15% è dovuto all'acqua calda. Quindi fondamentalmente il nostro settore è responsabile tanto quanto tutto il settore dei trasporti, mettendo auto, camion, navi, aerei e treni. Da un punto di vista di consumo energetico è tanto quanto il settore del comfort termico e quindi il potenziale di riduzione che deriva dall'efficientamento degli edifici è immenso e sostituire la centrale termica privilegiando soluzioni rinnovabili ad altissima efficienza a pompe di calore in primis è uno dei principali strumenti di decarbonizzazione dell'Europa. Ariston è un'azienda di oltre 3 miliardi di fatturato, oltre 10.000 persone con un impegno simile fra quello che è riscaldamento e acqua calda e offre un'ampia gamma di sistemi, soluzioni e prodotti rinnovabili ed altissima efficienza quali ad esempio pompe di calore, sistemi ibridi, caldaie pronte per l'idrogeno, scalda acqua, pompa di calore, e solare termico e a seguito dell'acquisizione di Wolf e di Brink siamo entrati come uno dei leader anche nella ventilazione domestica che è un tema che oggi ancora è poco presente ma che sempre più con gli edifici sempre più isolati sarà necessaria alla ventilazione all'interno degli edifici e noi siamo oggi anche lì uno dei leader in Europa. Da un punto di vista di numeri solo per dare una idea Ariston è un gruppo che ha continuato ad investire come penso si vede dall'evoluzione nella propria quella che noi diciamo la propria crescita sostenibile e negli ultimi anni abbiamo avuto un'accelerazione straordinaria e abbiamo raddoppiato le dimensioni negli ultimi 4 anni 3-4 anni e abbiamo come detto chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro quasi 400 milioni di EBITDA quasi 300 milioni di EBIT e quasi 200 milioni di utile netto e la cui nostra base è l'Europa per il sopra il 70% noi siamo un'azienda a radici italiane a radici marchigiane ma sicuramente proiettata nell'Europa e nel mondo con 10.000 persone sopra 10.000 quasi 11.000 persone e presente in 43 paesi in 5 continenti oggi lascerei a questo punto all'ingegner Crovella dare qualche dettaglio in più della nostra strategia come dicevo di investimento nel territorio grazie buongiorno a tutti Umberto Crovella responsabile della parte industriale di Ariston Group parte industriale che consta di 28 siti produttivi in tutto il mondo oltre 5.500 persone impiegate circa 10 milioni di pezzi prodotti ogni anno oltre 11.000 fornitori e tutto quello che ciò ne consegue quindi 40.000 bilici oltre 7.000 prodotti finiti che forniamo ai nostri clienti e oltre 90 magazzini per distribuire tutti questi prodotti nel mondo se andiamo sull'Italia l'Italia vale circa il 50% dei volumi totali prodotti e questo di questo 50% l'80 va verso l'export va verso fuori abbiamo 11 siti di cui la maggioranza sono nelle marche e ad esclusione di Osimo sono tutti nell'entroterra marchigiano oltre 2.000 persone più impiegate in Italia con oltre 500 fornitori di più di 200 milioni di euro il fattorato indotto in continuo aumento negli ultimi negli ultimi anni quali sono le nostre priorità cosa vogliamo fare in ambito industriale beh innanzitutto innovazione innovazione è sempre stata la chiave del successo di questa azienda che passa dal prodotto e dal processo per fare il prodotto estremamente importante vogliamo aumentare la nostra capacità produttiva per soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza ovviamente vogliamo rinnovare i nostri siti storici alcuni di questi aperti nell'immediato dopo guerra che quindi ha bisogno di un ammodernamento per essere al passo con i tempi e con le sfide che ci vengono dall'Oriente in particolare li vogliamo digitalizzare digitare sia i siti sia i nostri processi tramite i vari strumenti che sono disponibili con la di collaboration una supply chain digitale e la fabbrica digitale con un focus particolare sugli SG quindi efficienza energia verde e circolarità tutto grazie alle metodologie che abbiamo già introdotto diversi anni nell'ambito world class partendo dal manufacturing ma che si sono espanse anche nella logistica nell'ingegneria e così via abbiamo un programma ambizioso che abbiamo chiamato Road to 100 come 100 è il secolo di vita della nostra azienda fondata nel 1930 per ridurre il nostro impatto ambientale sono tre punti importanti secondo i vari scope che credo conosciate molto bene nel primo la riduzione entro quella data nel 2030 del 42% delle emissioni di gas serra generate le nostre attività rispetto alla base che abbiamo calcolato nel 2021 poi sempre entro la stessa data oltre il 50% di riduzione delle emissioni di gas serra generate dall'uso dei nostri prodotti venduti per ogni milione di euro di valore aggiunto sempre rispetto al 21 e ultimo non meno ambizioso degli altri riduzioni di oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate per la stessa data grazie a questi prodotti rinnovabili ad alta efficienza che vendiamo in tutte le regioni dove operiamo bene per raggiungere tutto questo che arrivo quindi alla cuore della nostra iniziativa di questo progetto accordo di sviluppo industriale per i crateri sismici dove ringrazio chiaramente sia il commissario Castelli sia il ministro e tutte le persone che ci hanno supportato per arrivare a questo risultato in Invitalia ci porta a avere circa 100 milioni di euro di investimenti nei prossimi anni per circa 16 di incentivi che velocizzano tutte le iniziative che avevamo già comunque programmato di fare in particolare attività di ricerca e sviluppo per rafforzare la nostra leadership industriale e accelerare la inevitabile innovazione di prodotti e processo per essere ancora più competitivi nei mercati europei aumentare e arrivare al massimo possibile di tutela ambientale in quanto siamo in zone anche molto pregevole dal punto di vista paesaggistico assicurare e continuare ad avere occupazione di altissima qualità e consolidare non meno importante di tutto il resto le filiere locali perché noi non intendiamo lavorare con prodotti di importazione ma vogliamo consolidare la nostra sapere sempre avere un prodotto che è interamente se non made in Italy perlomeno made in Europa detto questo io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla Lube grazie bene passiamo la parola a Fabio Giulianelli per Conto della Lube un altro gioiello marchigiano grazie anche per essere qui perché so che domani si chiude il mercato il mercato il lavoro abbiamo già fatto tutto non vi distraete perché leader come sa il mio sovurso ne devo uscire ma anche da pallavolo io sono prendo la parola ma volevo un attimo salutare in una maniera anche affettuosa e cordiale i mercoloni perché chiaramente abbiamo fatto la storia assieme abbiamo vissuto è stato un partner molto importante noi li ammiriamo e cerchiamo in tutti i modi di raggiungervi su questi numeri su questa storia ma è veramente un qualcosa di importante oggi essere insieme a voi qui in questa in questa sede in questo luogo chiaramente ringrazio non me lo posso permettere il mio amico presidente Acquaroli che chiaramente lo rivendico tale e per me è un onore ringrazio il ministro il ministro che che finalmente attendo a tutte le dinamiche del made in italy a tutte le problematiche nostre che ci permette comunque di avere un qualcosa alle spalle che abbiamo qualcuno che pensa a noi perché il mercato è talmente aggressivo talmente difficile una concorrenza spesso spietata avere a già la dedica c'è un qualcosa che tuteli il made in italy è di per sé una garanzia un garante e questo vogliamo proprio questa è l'occasione per sottolinearlo con vera vera enfasi e un grazie a te un grazie a te perché Guido è un commissario ma lo possiamo tradurre tranquillamente nel commissario del fare senza polemiche senza Guido fa Guido immediatamente dà i risultati e questo è un qualcosa che ci permette di essere immediatamente pratici ci avevo scritti due appunti però volevo un attimo approfittare dell'occasione per raccontare un po' di questa nostra lube che da sempre si considera un patrimonio una ricchezza delle marche non solo nella pallavolo ma anche proprio nel nel nostro modo di proporci noi fino a qualche anno fa ministro nel 2010 eravamo produttori solo produttori di cucine la crisi nel 2008 2010 ha dato un qualcosa a cui dovremo stare attenti anche in questi giorni in questi momenti con questi aumenti dei tassi ha dato un qualcosa che di difficoltà enorme di vita di esistenza dell'azienda noi a un certo momento nel 2010 eravamo siamo stati costretti a sostenere i nostri fornitori che non avevano più possibilità di accedere al credito e i nostri clienti che ci chiudevano fallivano proprio sotto una quotidianità perché? perché il mercato calava c'era la recessione e c'era una difficoltà ad accedere al credito facciamo tanta attenzione a queste situazioni che purtroppo congenturalmente si ripetono ma non devono accadere con gli stessi errori a quel punto noi ci siamo visti nella necessità di essere che vogliamo fare? vogliamo essere sempre solo dei fornitori o vogliamo cominciare a guardare a fare una partnership con i nostri clienti e ci siamo inventati proprio inventare una vera rivoluzione nella distribuzione non siamo più solo fornitori di cucina ma abbiamo messo su un qualcosa che c'ha dell'incredibile siamo arrivati a 600 negozi tra l'Ube e Creo 600 negozi che hanno il nostro marchio che noi praticamente abbiamo fatto una violenza a volte anche fisica racconto degli aneddoti naturalmente nel mio ufficio che abbiamo deciso tu non ti chiami più Giulianelli anche se c'hai una storia dei mobili e tutto quanto adesso ti chiamerai Lube adesso ti chiamerai Creo questa è una rivoluzione enorme perché quando noi parliamo di quanti dipendenti abbiamo noi sì in azienda ce ne abbiamo 700 ma posso considerarli 2000 2005 tutti i dipendenti di questi negozi in giro per l'Italia e adesso vedremo anche nel mondo sono nostri dipendenti perché dipendono dal nostro successo questo aspetto qui ha cambiato totalmente il paradigma della distribuzione questi nostri negozi questi negozi erano sono fatti da persone che sono diventate imprenditrici perché aprono uno due tre addirittura dieci negozi e qui c'è la famosa economia di scala un negozio deve avere un magazzino deve avere una pubblicità deve avere con dieci negozi tu hai lo stesso magazzino la stessa pubblicità i stessi costi fissi abbiamo reso questi imprenditori ricchi in salute lo dico con con enfasi importante è 6-7 anni non faccio gesti che non posso fare noi non abbiamo più una perdita su credito perché abbiamo fatto dei nostri clienti l'abbiamo di fatti diventare imprenditori questa rivoluzione ci ha portato tante via tante energie in Italia inauguriamo dagli 80 90 negozi l'anno e adesso questa è l'opportunità storica che abbiamo in questi ore in questo momento che finalmente possiamo trasferire all'estero quella che è diventata la ricchezza italiana noi siamo i primi produttori in Italia di cucine siamo arbitri del nostro destino perché ogni negozio che apriamo è un fatturato conquistato e questa fa la differenza enorme non dipendiamo da un cliente che ci compra o meno i nostri clienti siamo noi questo aspetto lo stiamo esportando all'estero all'estero non vendiamo più la cucina vendiamo questi negozi questo format e questa è una vera rivoluzione noi siamo convinti di stare che stiamo scrivendo la storia mi piace sottolinearlo in questa sede perché chiaramente nella storia non c'hai mai l'attimo fuggente ma c'hai un qualcosa che scrivi che porti avanti e questa opportunità che oggi abbiamo di poter fare un nuovo obbligio di una nuova azienda addirittura dedicata solo per la produzione all'estero perché l'estero in un modo o nell'altro vuole un prodotto comunque modificato che all'interno della nostra azienda dava dei problemi oggi con questa grande opportunità che vedo che i tempi sono veramente cambiati finalmente si sente la vicinanza finalmente sentiamo qualcuno che che ci permette di non solo di camminare ma di correre e speriamo anche di volare questa è un'occasione straordinaria noi siamo pronti a andare avanti con questa nostra nuova impresa che adesso i nostri ragazzi descriveranno nella loro questione tecnica ma siamo veramente felici contenti di poter pensare che questo che stiamo facendo adesso lo possiamo portare in una pensate che tutto il fatturato nostro oggi passiamo solo il 9 10% all'estero è una cifra ridicola abbiamo un potenziale di crescita enorme e questa è l'opportunità per crescere questa è l'opportunità per andare nel mondo e ripeto vi ringrazio ancora perché dopo 54 55 anni di storia nostra vedere che c'è qualcuno che ci sostiene e ci dà la spinta anzi ci sprona per correre è una responsabilità ma è una grande grande opportunità grazie di nuovo buongiorno a tutti anche da parte mia sono Alessio Sileoni ricerca sviluppo lube entriamo nello specifico del progetto che prevede la realizzazione di una nuova unità produttiva localizzata sempre nel comune di Treia con una propria autonomia tecnico funzionale dedicata alla produzione ovviamente immobili per cucina mobili per living armadiature anche in versione smontata con un focus come diceva prima particolare sul mercato estero attualmente il nostro fatturato riguardo all'export è circa il 10% del totale e l'attuale struttura produttiva pensata inizialmente per le necessità del mercato italiano non ci permette di essere competitivi in un contesto internazionale dove invece le esigenze di prodotto mi viene in mente misure personalizzate dei mobili differenti necessità di imballo di trasporto di servizio sono molto diverse dalle logiche nazionali alle quali siamo abituati questo nuovo stabilimento produttivo nasce proprio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di mercati alternativi a quello italiano e un obiettivo che nel prossimo futuro sarà un elemento chiave di ulteriore nostra crescita grazie a questo investimento potremmo porre maggiore attenzione a queste esigenze finora come già detto in parte trascurate senza però pregiudicare il flusso dell'attuale produzione la nuova struttura che avrà una superficie utile di circa 30.000 metri quadri sarà costruita con particolare attenzione alla mitigazione visiva rispetto a elementi notevoli del paesaggio circostante della nostra azienda storica ed emergenze paesaggistiche in particolare il blocco uffici che sarà ridosso la strada provinciale è stato pensato proprio con una soluzione di facciata in grado di creare un filtro percettivo rispetto ai volumi del retrostante nuovo sito produttivo riguardo gli impianti produttivi il progetto prevede linee completamente automatizzate di ultima generazione in logica industria 4.0 per una produzione flessibile e a flusso teso in grado di adattarsi all'andamento della domanda gestendo una gamma di prodotti molto vasta e specifica per i diversi mercati di riferimento secondo le previsioni completeremo il nostro investimento in 31-12-2025 per un valore complessivo di circa 44 milioni di euro di cui 27 dedicati specificatamente ai nuovi macchinari e attrezzature lascio la parola a Marcello Buongiorno a tutti Marcello Giulianelli direttore operativo del gruppo continuiamo accennando a quelle che sono le ricadute e i benefici di questo progetto noi pensiamo che questo progetto sia in sinergia con quelle che sono le politiche regionali e nazionali e gli investimenti che sono stati fatti per rilanciare e sostenere il territorio in questo periodo evidenzia evidenzia innanzitutto una forte competitività internazionalizzazione che si verrà a creare con questo nuovo stabilimento noi nel nostro settore delle cucine ci troviamo spesso a competere in ambito internazionale con aziende tedesche che fanno chiaramente della loro efficienza produttiva un vanto e un punto di forza questo nuovo stabilimento non è secondo a nessuno anzi è all'avanguardia per quello che riguarda il massimo della tecnologia e per quello che riguarda l'efficienza produttiva pensiamo appunto che questo ci porterà ad essere molto più competitivi anche per quello che riguarda l'ambito del prezzo ed essere quindi più aggressivi un altro punto essenziale è quello dell'indotto noi lavoriamo in un contesto che è unico nel suo genere ci sono veramente centinaia di piccole e medie imprese fornitori e sub fornitori che lavorano in strettissima sinergia con quella che è l'azienda produttrice questa sinergia e la nostra crescita farà in modo che anche queste piccole aziende si sviluppino insieme a noi e portino non solo l'ambito produttivo ma anche un livello di qualità e di servizio più elevati che sono essenziali se vogliamo competere in un ambito internazionale fuori dall'Italia l'ultimo punto che vorrei approfondire è quello delle assunzioni noi indicativamente abbiamo predisposto circa una sessantina di nuove assunzioni a livello iniziale vorrei però precisare che si trattano di assunzioni di alta specializzazione di una qualità fuori dal normale perché come accennavo prima i macchinari sono di ultimissima generazione parliamo di un flusso produttivo teso ossia si parte dalla materia grezza iniziale e si arriva al prodotto finito in pochissimi passaggi manuali con un'altissima automazione e sarà necessario perciò avere un training e una formazione costante di tutti questi operatori concludo questo nostro piccolo intervento ricordando il fatto che l'UBE come accennava Fabio fra 4 anni festeggerà i suoi 60 anni di attività e nel corso della sua storia si è sempre contraddistinta per reinvestire i propri proventi aziendali in quello che è il suo core business abbiamo acquisito aziende abbiamo fatto cabardoni abbiamo preso macchinari di ultimissima generazione questo ci ha portato negli ultimi anni anche grazie all'industria 4.0 a investire moltissimo circa 40 milioni di euro in macchinari di ultima generazione e crediamo che appunto questo progetto sia un continuo sia molto collegato a quello che è il DNA dell'azienda e possa portare quel valore aggiunto a quella filiera distributiva a quell'ambito di distretto produttivo che tutti ci invidiano che è quello del settore marchigiano che esporta un prodotto e che è chiave del Made in Italy che viene ricercato e apprezzato in tutto il mondo grazie bene la parola ad ora al nostro ministro che ha avuto una giornata impegnativa oggi è anche il suo compleanno mi consentirà se lo dirò tanto ormai lo sanno tutti e quindi grazie doppiamente per aver dedicato del tempo prezioso alle Marche e al Sismo grazie a voi di questo invito oggi sono ancora a metà giornata impegnativa nel senso che devo rientrare poi a Roma dove ho altri due incontri una con la confagricoltura la loro assemblea nazionale e poi un altro al ministero con alcuni sindacati nel settore metalmeccanico e sono però particolarmente felice di essere oggi qui ho accolto l'invito del presidente della regione Acquaroli e del commissario straordinario Guido Castelli che conosco da qualche anno da qualche compleanno fa e non solo perché ovviamente siamo in piena sintonia in una filiera politica che guarda e costruisce il futuro per il nostro paese ma anche soprattutto perché questo è un progetto da evidenziare nella ribalta nazionale e da portare esempio a livello internazionale di come si possono bene impiegare le risorse pubbliche e anche le risorse del PNRR in progetti che hanno immediato impatto sullo sviluppo sulla produzione e quindi che siano poi in condizione di consentire allo Stato e alle casse pubbliche di ripagare i debiti che abbiamo nel frattempo acceso è un progetto da portare in evidenza perché è un progetto che ha appunto un impatto significativo sul sistema economico in quello che è un ecosistema ne parlavo prima con Acquaroli un ecosistema che appariva una volta un'anomalia nel mondo l'ecosistema italiano fatto di piccole e medie imprese in filiera in distretti industriali talvolta con una grande impresa che faceva da chioccia le altre e che si ostinava a produrre nell'economia reale cioè nell'agricoltura e nell'agroindustria e poi nell'industria manufatturiera quando invece molti paesi delocalizzavano queste produzioni all'estero nella illusione che poi tutti fossimo parte dell'unico mercato globale e che se era più conveniente produrre in Cina piuttosto che in un paese prodotto in Brasile per i prodotti agricoli potevamo poi comunque noi garantire il nostro sviluppo così non è e se ne sono accorti tutti e infatti quello che appariva un'anomalia un sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese di filieri industriali di distretti che si ostinava nei settori alimentari e nei settori industriali a continuare a produrre nel nostro paese sta diventando e via un modello al punto tale che è considerato tale ormai anche da parte degli investitori internazionali che sempre più puntano all'Italia lo dicono le statistiche per ricollocare i propri investimenti accorciare le filiere industriali presidiare i continenti in questo caso il continente europeo e infatti le statistiche ci dicono che l'Italia negli ultimi mesi che in Italia negli ultimi mesi gli investimenti essi sono cresciuti più che in Francia in Germania e in Gran Bretagna non era mai accaduto stiamo recuperando ma stiamo recuperando con una forza con una velocità inattesa inaspettata e imprevista in più ci dicono che la borsa di Milano è cresciuta di più di qualunque altra borsa europea perché gli investitori internazionali sia che opera in borsa sia che opera nel territorio oggi vede nell'Italia così come lo ha definito il fondo principale fondo di investimento americano a Blackstone come il paese ideale in cui investire in Europa proprio per l'ecosistema che garantisce anche una coesione sociale che è evidente a tutti se uno si raffronta oggi in Italia con quello che è accaduto e sta accadendo in Francia o con quello che è accaduto e sta accadendo in Germania paesi in cui prima venivano portati a modello e esempio l'ecosistema che è stato realizzato in Italia grazie alla straordinaria capacità dei nostri imprenditori ma anche di un tessuto sociale e istituzionale fatto persino di piccoli comuni che cooperano con le imprese è un ecosistema particolarmente favorevole per nelle condizioni le nuove condizioni della globalizzazione che tende appunto a creare sempre più mercati e produzioni continentali questo progetto è talmente importante che ha visto in piena sintonia agire gli enti locali un governo nazionale e soprattutto il sistema imprenditoriale locale mi fa piacere che nel presentarlo sia stato evidenziato anche le ricadute sul tessuto sociale produttivo e mettere insieme ricostruzione e rigenerazione economica non era certamente facile soprattutto in un paese in cui io ricordo ancora casi di ricostruzione che hanno portato poi a tante inchieste giudiziarie o a casi di ricostruzione che sono ancora ferme dopo 30 o di 40 anni quindi mettere insieme ricostruzione e legislazione economica non era far se ci sia riusciti complimenti penso che possa essere anche un esempio un modello per il disegno di legge che all'attenzione del Parlamento che è il provvedimento e il disegno di legge sulla ricostruzione come voi sapete noi abbiamo egito per quanto riguarda il recente evento catastrofale sia sul fatto dell'emergenza tempestivamente destinando oltre 2 miliardi di euro già nel primo provvedimento per quanto riguarda le zone alluvionate sia con un provvedimento di legge successivo portato all'attenzione del Parlamento che costruisce un modello di intervento dello Stato nel caso di eventi catastrofali il disegno di legge quindi ci darà cosa accade quando purtroppo per tanti motivi l'Italia è soggetta a eventi catastrofali siano essi eventi derivanti dall'annammatura del nostro territorio pensiamo ovviamente ai territori ai terremoti ai crateri sia eventi determinati dalle condizioni climatiche cambiate che hanno ovviamente alterato poi le conseguenze sul territorio e sui cittadini cioè noi non pensiamo soltanto a fronteggiare l'emergenza come va fatto in ogni caso vedete che il governo fronteggia l'emergenza quanto c'è ma predispone una politica che non sia emergenziale ma strutturale duratura del tempo un modello di azione nel caso di altri eventi catastrofali sia per quanto riguarda l'emergenza sia per quanto riguarda le costruzioni per intenderci nel disegno di legge che vi dicevo vi è anche una norma che riguarda per quanto di competenza del mio di castello il sistema delle assicurazioni per rendere certo che coloro che si assicurano con eventi catastrofali siano in stintresa o famiglie poi siano effettivamente ripagate dall'assicurazione a cui si sono rivolte perché questa è la fiducia del comportamento dell'assicurazione e del fatto che poi intervenga il principale problema e infatti in quel disegno di legge abbiamo messo una norma che obbliga le assicurazioni a anticipare il 30% del corrispettivo a prescindere per poi eventualmente discutere successivamente e rivalersi successivamente in termini giudiziali se necessario cioè l'assicurazione che prima deve corrispondere almeno il 30% e poi confrontarsi con la controparte perché è chiaro che le imprese ma anche le famiglie ma soprattutto le imprese hanno bisogno di avere certezza del caso di un evento catastrofale poi abbiano immediatamente le risorse da investire per recuperare e riprendere a produrre che è quello che ci interessa a noi e questo così come lì c'è una parte invece più di delega concordata anzi in questo caso predisposta al Ministro Gergetti per rivedere tutto il sistema delle assicurazioni in questo campo ecco noi questo è il modello con cui vogliamo agire fronteggiare l'emergenza ma predisporre sempre le misure per il dopo per dare una continuità all'azione del governo e all'azione degli enti preposti per quanto riguarda le misure specifiche io concordo con quello che diceva Guido Castello sull'università di intervenire sui contratti di sviluppo in modo tale che siano poi commisurati anche a modelli più piccoli di quelli che oggi perché poi il modello italiano è fatto di piccole imprese di piccoli investimenti in un quadro di sistema molto significativi e importanti e su questo cercheremo di agire in maniera coesa e univoca affinché oltre questi due grandi significativi investimenti parliamo di grandi investimenti di un'azienda leader in Italia nel sistema appunto delle cucine un'azienda multinazionale che ha un suo ruolo nel mondo e orgoglio del nostro Medinitri che giustamente produce e continua a produrre sempre più produce nel territorio dove è nato ma nel contempo in una sana internazionalizzazione che è il modello che noi vogliamo perseguire che contrasta invece la malefica delocalizzazione una sana internazionalizzazione l'agenda si espande per presidiare altri mercati ed è questo quello che noi vogliamo incentivare nel contempo vogliamo scoraggiare la delocalizzazione non vi aggiungo altre misure che intendo prendere nelle prossime settimane a tal fine premiare che si internazionalizza e scoraggiare chi delocalizza soprattutto investimenti stranieri che arrivano in questo paese prendono gli incentivi e poi lasciano il paese magari portandosi via la tecnologia cosa che oggi ovviamente è l'elemento di competitività sul sistema globale bene e quindi questa sarà la politica industriale che vogliamo realizzare in questo paese credo che l'abbiano compreso tutti poco fa mi sono confrontato mentre venivo dall'Abruzzo alle Marche ho dovuto fare una tappa in un autogrill che è qua vicino perché avevo un colloquio telefonico significativo con il mio collega francese Lemaire che è contemporaneamente industria e ministro dell'economia cioè il collega di Giorgetti ma anche il mio collega perché in Francia c'è un unico ministero pensato quindi importante sia che assomme le competenze di Giorgetti mie e di qualche altro ministro italiano Lemaire su cosa fare insieme per sostenere la produzione degli automotivi in Europa colloquio che ho avuto dopo aver l'altro ieri incontrato il ministro delegato di Stellantis Tavares con cui mi sono confrontato su un piano che io ho definito un accordo di transizione tra lo Stato tra il governo italiano e Stellantis per aumentare i livelli produttivi nel nostro paese investire ricerca e innovazione in modelli innovativi e mantenere un saldo rapporto con la filiera industriale è ovvio che questo si decide anche in Europa di qui il colloquio con l'Emer per mettere in piena sintonia la politica che l'Italia sviluppa in Europa con quella che la Francia sviluppa in Europa soprattutto per quanto riguarda i dossier industriali noi sappiamo che l'Italia può e deve preservare il suo territorio e siamo in condizione di farlo lo deve fare meglio di più in una logica europea questo vale per qualunque settore industriale per questo sto come dire per questo abbiamo cambiati anche i format in Europa pochi si sono accorti ma gli attetti ne hanno lo hanno dato riscontro del vertice che abbiamo fatto a Berlino due settimane fa insieme all'Emer e Abbeck fino all'altro giorno l'Italia era esclusa dal dialogo franco tedesco sulla politica industriale ed economica da sempre poi acclarato e ribadito nel trattato di acquisgrana Francia e Germania si vedevano il trattato prevedeva per concordare le posizioni di pulizia industriale nell'Unione Europea bene con Berlino abbiamo rivoluzionato e innovato per cui d'ora in poi ci vedremo in tre per quanto riguarda la pulizia industriale l'Emer Abbeck il sottoscritto a Berlino lo abbiamo fatto in questo trilaterale che è stata istituita e sarà continuativa anche tra i nostri uffici in materia di materie prime e critiche che è il regolamento europeo importantissimo e fondamentale per garantire le materie prime e critiche che serviranno all'industria italiana nella duplice transizione green e digitale dal litio al gallo e germano tutti oggi sapete cos'è il gallo e il germano perché l'altro giorno la Cina ha vietato l'esportazione di due elementi gallo e germano che dal nome significa che sono stati creati e ideati in Italia o scusate in Europa gallo e germano e che invece la Cina ha bloccato l'esportazione che sono fondamentali per costruire prodotti inerenti alla tecnologia green e digitale ma questo riguarda il litio riguarda il cobalto riguarda il titanio riguarda 35 materie prime e critiche individuate dalla Commissione Europea con il nostro supporto e sotto le nostre indicazioni come fondamentali nella transizione digitale ed ecologica ebbene lì abbiamo stabilito cosa fare insieme e cosa indicare insieme che la Commissione debba fare poi ci sarà un vertice trilaterale in Italia il 30 ottobre sulla tecnologia digitale anche perché noi abbiamo il più grande multinazionale nel digitale in Europa che si chiama ST Macroelettronica e poi ci sarà un vertice trilaterale simile sulla tecnologia green in Francia e questo modello trilaterale diventa un format sulla base del quale poi saranno prese le decisioni comune a tutela dell'industria tedesca francese italiana che spesso fanno parte della stessa catena industriale e dello stesso bacino industriale in molti settori è così e di conseguenza la politica noi indichiamo alla Commissione per diciamo allineare le tematiche ambientali con quelle industriali perché cosa è accaduto in Europa sulla base di un contesto politico del tutto diverso pre-pandemico pre-invasione della Russia in Ucraina cioè in un altro mondo è accaduto che la Commissione è stata espressione di una cultura politica prevalente in quegli anni ormai passati in cui tutti i dossier anche industriali venivano di fatto esaminati soltanto secondo l'ottica della sostenibilità ambientale per cui i dossier sull'automotive in gran parte sono di proprietà della direzione clima c'è da un commissario ideologico che agisce sul clima così come i dossier sulle micropastiche così come i dossier sulle acque reflui su tanti argomenti che invece hanno il packaging che hanno impatto immediato sul sistema industriale e quindi li seminava secondo soltanto la sua logica è come se in Italia decidessimo che sulla polia industriale avesse voce e decisione solo il ministro dell'ambiente espressione magari del partito verde quando invece ovvio che deve avere voce il ministro dell'ambiente ma tanto più voce il ministro dell'industria o il ministro dell'economia perché ha un impatto immediato sul sistema economico e produttivo ogni decisione che viene preso soltanto sotto quella ottica tanto più se poi in quell'ottica c'è un commissario ideologico ante guerra che pensa ancora che vi sia il problema che non vi sia ancora che non vi siano i problemi che abbiamo dovuto affrontare invece in questi anni quella della sostenibilità energetica produttiva e quant'altro ancora per cui ora è cambiato anche il format di poliglia industriale decideremo insieme l'Italia è tornata tra i grandi in Europa e tra i grandi nel mondo e in conclusione tutti questi elementi di poliglia industriale che si nucleeranno anche in disegni di legge come alcuni di quali già conoscete ed altri conoscerete nelle prossime settimane dal piano nazionale sulla microelettronica a ovviamente e tanto più la legge sulla spazio e quant'altro ancora alla legge sulle frontiere tecnologiche si nucleeranno in un grande meeting di politica industriale che realizzeremo il prossimo anno nella prossima primavera quando l'Italia sarà sede dei grandi vertici internazionali di sempre il presidente di turno del G7 e giungeremo a quell'appuntamento con una serie di politiche di settore che stiamo individuando da quella dell'automotive alle telecomunicazioni ovviamente alla siderologia alla chimica alla agriindustria alla farmaceutica al biomedicale ma anche al settore elettrodomestico perché abbiamo deciso di realizzare un tavolo con tutti gli attori produttivi sociali e sindacali per definire all'arco dell'anno una piano cioè una politica di filiera per ognuno dei settori produttivi del made in Italy e quindi certamente anche per l'elettrodomestico e per tutto quello che gira intorno ad esso ritenendo uno dei settori fondamentali in cui il Paese ha dimostrato di essere competitivo a livello globale ed è per questo in un confronto leale aperto e costruttivo con le parti sociali produttive come voi avete fatto qui nel territorio svilupperemo anche una filiera una politica di settore per le elettrodomestiche italiane e comunque per tutto quello che fa parte dell'ambiente in cui noi viviamo cioè della nostra casa ovviamente anche l'ufficio perché poi l'elettrodomestico va anche nell'ufficio ovviamente va anche nell'industria ebbene noi riteniamo che questo sia fondamentale con questo metodo e con questi obiettivi riteniamo che il Paese possa riprendere il proprio ruolo nella storia e siamo convinti come dicono tutti gli indicatori economici che lo possa fare meglio di altri Paesi europei lo testimoni il fatto che mentre un Paese importante e significativo purtroppo lo dico come la Germania oggi in piena recessione l'Italia invece in termini di crescita di prodotto intero ordo guida la classifica in Europa e ha dato le migliori performance stupendo molti tra tutti i Paesi del G7 almeno nella prima parte di quest'anno e le stime dicano che anche nella seconda parte dell'anno potremmo stupire i nostri detrattori e inorgoglire i nostri cittadini buon lavoro